100 partite senza sconfitte, 89 vittorie, 11 pareggi, 363 gol fatti e appena 80 subiti, questo per gli amanti delle statistiche è il grande Torino, ma la memoria di quella squadra nella storia della nostra città rappresenta qualcosa di più, carne della carne della storia d'Italia, prima gioia e poi ferita per una nazione colpita dalla guerra. Sauro Tomà su quell'aereo che alle 17.05 del 4 maggio 1949 va a sbattere contro il terrapieno della Basilica di Superga non c'è, un ginocchio ballerino lo ha costretto a rinunciare alla trasferta di Lisbona, ma sono le sue parole a portarci indietro a quel giorno, alla Torino in piena ricostruzione che si affaccia agli anni 50 a carica di speranze. L'ho saputo ritornando a casa dall'allenamento del Philadelphia e c'era già qua in via Magellano sotto il mio alloggetto che mi aveva dato poi il Torino in affitto, c'erano già diverse persone, questi miei amici, c'era Sandrino, c'era Carlino, c'era questo Mario Ceresa che possedeva l'ardea come ne dicevo e allora è stato tanto gentile, mi dice Sauro vuoi andare su? E allora siamo andati su con questa, però ero anche incredulo, come si può dire, pensavo che magari il disastro non fosse stato così enorme, mentre si andava su da questi tornanti c'era già della gente che veniva giù però che piangeva. Una tragedia capace di lasciare a bocca aperta un'intera nazione. Ai funerali del 6 maggio in rappresentanza del governo arriva un giovane sottosegretario di nome Giulio Andreotti. Tra Palazzo Madama e il Duomo oltre mezzo milione di persone testimoniano come una storia nata sul verde dei campi di calcio sia diventata leggenda nell'immaginario di milioni di italiani. Si sogna la macchina ma intanto alla sera ci si riunisce attorno alla radio per ascoltare i primi varietà e l'epica voce di Niccolò Carosio. C'era stata la guerra e di conseguenza le persone avevano bisogno di un qualche cosa per evadere dal pensiero continuo di questa ripresa della vita e penso che il Torino come in altri sport sia stata la squadra che abbia dato il coraggio di ritornare alla normalità, diciamo, chi lavorava, chi riprendeva la propria attività e questo Torino anche perché era formato da tutte, da ragazzi modesti, da ragazzi che anche loro avevano sofferto. Ma cos'è Torino agli occhi di un ragazzo di 24 anni appena arrivato dalla Spezia? Sia io che mia moglie eravamo innamorati di Torino perché già andare in via Roma si presentava una cosa eccezionale perché in fondo là c'era il Palazzo Reale, Piazza Castello e vedere già questi negozi, questa moda anche che c'era a Torino faceva strabiliare, diciamo, magari noi provinciali, ecco, capito? Una Torino dove la parola globalizzazione sta a significare una chiacchierata tra amici nel cortile del vecchio Filadelfia o sotto al portone di casa. Lesevamo i giornali, eravamo anche attenti, infatti mi sembra che la cosa di Togliatti a noi ci prese quando eravamo in Brasile. Intanto si comprava, avevamo delle radio che sono ancora in casa, che costavano coi tempi, avevo preso io una Nicoletta della iRadio, che sembrava di spendere un chissà cosa, cioè eravamo attenti a tutto quello che succedeva in Italia. Una squadra di campioni poi vicina alla sua gente, nella quale un'intera generazione si riconosce. Mangiavamo al ristorante Cervo e allora poi ci si incamminava per il corso nelle sovietiche e poi via Filadelfia e allora noi entravamo già in partita perché tutti, questi qua erano del popolo, si battevano sulle spalle, mi raccomando, cioè era una festa andare al campo sia per loro sia per noi perché ci facevano già entrare in partita, capito? Poi questo cattino. Venivamo dal niente, da guerra e da fame, carri bestiame, tessere e prigione, fratelli morti in Russia e partigiani, famiglie divise, sperdute bandiere, ma un fiore l'avevamo ed eri tu, Torino, tagliata nell'acciaio era la tua bravura, gioventù nostra che tutte le pene portavi via con la tua faccia dura. Sì perché più nessuno ha vinto anche per te senza età, misto di leggenda e di realtà, sì perché più nessuno ha vinto anche per te senza età, misto di leggenda e di realtà, può parlare al centro e siamo pronti a giocare.